in parto dalla più sapida, da quella che ha un'analisi sempre tagliente ma giusta e corretta del GF, la puntata di lunedì. Allora, premesso che devo farti complimenti, perché finalmente hai detto ciò che bisognava dire, niente di più, era quello che tra l'altro nei social perennemente veniva fuori, perché sono state dette, si può dire a casa signorini delle grandi cazzate? Sì, sì, sì. Ecco, allora lo possiamo dire, proprio delle cazzate ma che non fanno altro che portare la Delellis a uno stato di ignoranza bassissima. Totale, abissale. Bassissima. Devo dirti che nelle prime puntate, già erano, perché la Delellis aveva dato questa frase, aveva fatto questa riflessione orribile, durante la prima e seconda puntata, e i social si erano imbufaliti, giustamente, ma perché non lo commenti Alfonso? Devi commentare questa cosa. Noi abbiamo preferito, nelle prime puntate, tacere ed evitare per creare anche un clima anche di divertimento, di leggerezza, perché insomma, altrimenti entrare subito così, però insomma ieri abbiamo... Ma spesso a cattiva notizia non bisogna dare replica, no? No, l'altro ieri ci abbiamo... Però a questo punto si è arrivati veramente al limite. No, io credo che sia fondamentalmente frutto di ignoranza, e per ignoranza intendo colui che ignora, che non sa, anche perché oggi è risaputo, mi stupisce per l'età, perché è una ragazza particolarmente giovane, ha una ventenne, quindi non è una signora su di età, dove ha vissuto un altro periodo storico, dove magari non c'era la conoscenza, il sapere, chiunque... Ci sono delle celebri foto, anche degli anni 90, di un celebre professore dove si baciava con una malata di AIDS, di HIV, o comunque scambiava il bicchiere e non si attacca, non è quello il modo per... E parliamo degli anni 90 quando di AIDS si moriva al 90% dei casi. Oggi, grazie a Dio, per fortuna la medicina ha fatto passi alla gigante, non si muore più, si può convivere con questo, non vuol dire che è bene entrare in contatto con il virus dell'HIV, assolutamente, però non si muore, e bisogna dire anche la verità che quella bassa percentuale che tutt'oggi c'è, non si riferisce agli omosessuali, ma gli eterosessuali. Perché purtroppo c'è da dire che il mondo omosessuale ha dalla sua la promiscuità che è più forte rispetto al mondo etero, cioè gli omosessuali, uomini o donne che siano, fanno l'amore o fanno sesso con una leggerezza maggiore, e questo è un dato di fatto. È vero, e di conseguenza si proteggono. Rischiano di più, però si proteggono. Mentre gli etero pensano, ma no, tanto ancora oggi si pensa che l'HIV sia, che ha ben detto Ele Noir, oggi si cura, non si guarisce ma si cura, consentendo a chi ne soffre di fare una vita qualitativamente alla pari di qualsiasi altra persona, anche se è meglio non averlo perché farsi le analisi ogni tre settimane piuttosto che ogni tre mesi non è il massimo. Però devo dire che oggi fortunatamente chi muore, quelli che non se ne accorgono per tempo, in Africa e nei paesi sottosviluppati dove non ci sono le cure dei retrovirali. Ma perché purtroppo diciamo, c'è ancora un retaggio dove si dice che l'HIV è la malattia dell'omosessuale. Ma non è così, perché gli etero, cioè davanti alle malattie a trasmissione sessuale, siamo tutti diciamo vittime, sia etero che omo. Però perché io ho tirato fuori la storia lunedì in puntata del mi sono così arrabbiato e inalterato? Ve lo spiego adesso che sono anche un po' più calmo. Innanzitutto perché tu non puoi fare, Giulia Delellis, non puoi elencare tra le cortegorie disgraziate della società, i gay e i drogati. Perché se la Delellis si fosse limitata a dire, io sono ipocondriaca, non voglio dividere la mia sigaretta al mio bicchiere con nessuno, io non avrei trovato niente da eccepire. Ma se tu mi citi i gay e i drogati, vuol dire che fai delle distinzioni. E poi dopo non ti puoi più arrampicare sui vetri, cara Delellis, dicendo ah no ma io mi riferivo, eh no, state zitta. Secondo modo, se tu mi tiri in ballo le malattie e ti riferisci, perché lo hai detto tu, ai drogati e ai gay, quando si parla di malattie legate ai gay e ai drogati, ciascuno di noi a che cosa pensa se non all'AIDS? Pensiamo al raffreddore, alla disenteria, alla mononucleosi? Direi proprio di no. Perché quelle per anni sono state il retaggio culturale, una demonizzazione, la malattia dell'omosessuale è l'AIDS. Quindi certe, alle parole, questa è la lezione anche di Predolin, perché ci riferiamo anche alla sua espulsione, alle parole bisogna dare un peso, cioè un valore. Nel bene e nel male oggi secondo me non si dà più un valore alle parole, non si dà più quel valore quando si apre bocca e si dice una frase, tanto più una ragazzina di 20 anni che comunque per qualcuno è un esempio. Per molti, non per qualcuno. Esatto. È in video 24 ore su 24, però ripeto, la cosa che più mi sconvolge... Perché in video 24 ore su 24? Cioè un simile liquame mediatico, una simile feccia umana. Perché è in video su una grande rete nazionale? Questa è una bella domanda, io non ce l'avrei voluta di certo, te lo dico onestamente. Ma non è l'unica, perché questa gentalia che non ha né arte né parte, non dico umanamente perché non mi permetto, ma che cosa ha fatto questa è lì a pontificare di fronte a 5 milioni di persone, ragazzi come lei, quindi fragili, ragazzi della sua età. Non è la prima, d'accordo? Proprio per questo. Perché da 23 anni che faccio questo lavoro non è l'unica, eh? Ecco, spiega, ecco, appunto, non è l'unica, poi dovremmo aprire veramente... No, no, appunto, ecco perché cui protest, cioè perché c'è questa gente davanti... Benissimo, Alfonso ha fatto benissimo, ha fatto benissimo, per fortuna che c'era lui. Perché era un messaggio giusto da far arrivare. Sì, ma la cosa, la cosa, la folle è l'ignoranza in questo caso, cioè non sapere che la light non si trasmette attraverso una sigaretta o un bicchiere d'acqua. Ma perché l'ignoranza va in televisione a pontificare come se fosse un titolare di cattedra? Questo ce lo dobbiamo chiedere, purtroppo la tua domanda è lecita, io ti do la mia risposta. La colpa è nostra, la colpa è dei programmi televisivi che mettono in cattedra queste persone senza né arte né parte, li mettono addirittura su un piedistallo, su un trono, che a volte ci sono persone, e la storia di uomini e donne lo dimostra, con il sale in zucca, che anche sotto i riflettori sanno esattamente come si deve parlare, come si deve ragionare. Per esempio Luca, devo dire, il fratello di, ma non perché è qua Gianmarco, che non me ne può fregar di meno, lo ringrazio di essere qua, ma non parlo bene di tuo fratello perché sei qua, perché se fa una cazzata io in studio lo ribalto come è giusto che sia. Però, devo dire, tuo fratello sta dimostrando di fare un bel percorso, è una persona che non si è montata la testa, poi ci sono altre persone che invece in successo non lo reggono, mummi, cioè perché forse si sentono talmente idolatrate dal sistema, dai fan che vivono queste poverette, che vivono per questa gente, che non hanno probabilmente altro da fare anziché studiare stanno lì tutto il giorno attaccati ai social, ma prendete i libri in mano, altro che i social, ma dove andate sui social, ma pensate a voi fra vent'anni, ma cosa sarete se anziché stare attaccati ai libri 24 ore su 24 non vi preparate un esame, una lezione, andate a scuola, ma che social. Ho anche il puro piacere di leggersi un libro. Il piacere, ma lei ha detto, la Delellis, che lei non ha mai letto un libro in vita sua. Parliamo ancora, poi sfruculiamo l'argomento di ieri, però.